Grazie Presidente, mi fa piacere in questa occasione ringraziare Claudio Palmulli e tanti disabili che sono rivolti a noi, a tutta l'Aula Consigliare per rappresentare le difficoltà per l'attraversamento della città, per andare al lavoro, per muoversi sia durante i giorni feriali che i festivi. Ecco così che abbiamo accompagnato questo ragazzo, abbiamo visto insieme i principali problemi, problemi che hanno una storia lunga, a Roma parliamo di decenni e decenni, abbiamo scandalosamente una metro A che nelle sue fermate più importanti centrali non sono accessibili. Ecco allora la nostra richiesta, una mozione urgente per richiedere l'attivazione del tavolo relativo al PEBA e per una positiva coincidenza di intenti, esattamente 24 ore dopo aver depositato questa nostra mozione vi è stata una delibera di giunta che attivava il tavolo tecnico relativo al PEBA. Quindi abbiamo accompagnato la nascita di questo tavolo con una commissione ad hoc congiunta con le politiche sociali e ora seguiremo con attenzione i prossimi passi, speriamo già dal mese di ottobre.